In Italia c'è un'Italia antica, fatta di scale ripide, anziani soli e giovani sacerdoti. Ciao, sono Don Franco. Lui e tanti come lui sono gli occhi, il cuore, la voce, l'anima. Anche le gambe. Di tanti piccoli paesi a volte dimenticati. Ed è bello sapere che i fondi dell'otto per mille non dimenticano lui e gli altri sacerdoti sparsi per l'Italia. Con l'otto per mille alla Chiesa Cattolica avete fatto molto per tanti. L'ex segretario dello Stato Vaticano, il cardinale Tercesio Bertone, è stato indagato per l'appropriazione e indebità di 15 milioni di euro sottratti dai conti vaticani. Con l'otto per mille alla Chiesa Cattolica avete fatto molto. Ed è bello sapere che i fondi dell'otto per mille non dimenticano lui e gli altri sacerdoti sparsi per l'Italia.